Regina Celilettare. Alleluia. Qui a QM Ruistiportare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora probis Deum. Alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria. Alleluia. Qui a surrexit Dominus Vere. Alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrezionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare di Neatuses. Presta, quesumus, ut pereus genetricem Virgine Maria perpetue catiamus gaudia dite. Pereundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada